La liberalizzazione del 2013 che ha comportato l'eliminazione dei limiti oggettivi relativi alle attività che si possono svolgere a mezzo del lavoro accessorio e l'estensione a tutti i settori produttivi del ricorso al medesimo lavoro, compreso gli enti pubblici, ha comportato uno snaturamento del lavoro accessorio che appunto si presta ad un utilizzo di lavoratori in maniera continuativa e per attività che sono pienamente coincidenti con l'oggetto sociale dell'impresa committente. Questo comporta l'utilizzo di una forma di lavoro caratterizzata da tutele ridotte al minimo in funzione di sostituzione di lavoro subordinato. Una forma di lavoro che appunto non garantisce al lavoratore accessorio tutte quelle che sono le tutele di un lavoratore subordinato standard. Il lavoratore accessorio non gode il trattamento economico nel caso di malattia, nel caso di maternità non gode dell'assegno al nucleo familiare e del trattamento di disoccupazione al termine dell'attività lavorativa. Grazie a tutti.